Nella parte nord di Boston, qui siamo a Charlestown, al di là del fiume Charles che divide Boston dalla parte di Cambridge, c'è anche la fine del Freedom Trail, che come vedete è questo tracciato di mattori rossi, che finisce al museo della USS Constitution, che è la nave galleggiante e ancora navigante più vecchia al mondo, un trialbero della fine del Settecento circa.